Lo stato dell'arte del piano attuativo regionale relativo al programma GOL, garanzia di occupabilità dei lavoratori e lo stato di liquidazione delle prestazioni rese dai soggetti realizzatori sono stati al centro della quinta commissione regionale vigilanza preseduta da Sandro Mariani che così fa il punto della situazione. Ci hanno sottolineato e poi è emerso in una prima udizione che c'è stata con la parte tecnica, con la dottoressa Bucco e la dottoressa Durante della regione Abruzzo che ci sono notevoli difficoltà a rendicontare, c'è una oggettiva difficoltà a capire, a comprendere quanta gente è riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro ricordiamo che il progetto GOL aveva quattro misure ben precise e ben distinte che tendevano e tendono perché attendiamo ancora il bando per gli anni successivi anche questo è oggetto di discussione ma vorremmo capire questa misura economica così importante e così sostanziosa quanta gente riesce a ricollocare nel mondo del lavoro perché alla fine l'obiettivo è questo quindi al di là della formazione importante per chi non ha più un lavoro la questione fondamentale rimane pur sempre quella della collocazione definitiva per rispettare e dare dignità ai vari soggetti che purtroppo hanno perso lavoro. L'assessore Magnacca naturalmente subentra da pochi mesi l'assessore Quaresimale è emerso appunto che in maniera molto onesta da parte dei dirigenti, dei funzionari della regione che ci sono stati dei problemi e per sì sono dei problemi speriamo che l'assessore Magnacca porti le soluzioni a differenza di qualcun altro. In apertura è stato udito anche l'assessore regionale al lavoro Tiziana Magnacca chiamata a relazionare sul piano attuativo e sui dati che riguardano proprio il programma che mira creare occupazioni in regione. La regione Abruzzo è tra le migliori regioni insieme a Emilia Romagna e a Veneto per il raggiungimento delle persone a cui sono stati fatti sottoscrivere i patti. Continuano invece a registrarsi manchevolezze ma questo è un dato nazionale infatti sono gli stessi dell'Emilia Romagna per poterci paragonare a una regione che è un po' lidere anche il Veneto in termini di formazione cioè c'è un abbandono nei corsi soprattutto da parte di coloro che non hanno titolo di studio qualificato, coloro che rinunciano per il solo fatto che un buon reskilling delle competenze imporrebbe un corso più lungo. Quindi questo non significa che bisogna abbandonare l'obiettivo, anzi bisogna recuperare soprattutto costori e quindi il programma di Gol si sta rivedendo proprio alla luce di questa necessità che è di natura nazionale non solo di natura regionale.